Quinta edizione a Chieti del Teatro Magic Summer, l'appuntamento con la magia e l'illusionismo che torna dal 5 al 7 agosto con una serie di appuntamenti imperdibili a prezzi calmierati. Torna il Teatro Magic Summer, saranno tre giorni, 5, 6 e 7 agosto per le strade del centro storico della città. La manifestazione si svilupperà dal Corso Marrucino fin dentro la villa comunale, ci saranno stand di street food internazionali e nazionali e poi ci saranno artisti di strada, di fama internazionale, anche provenienti naturalmente dall'estero, che si sono esibiti nelle più grandi città d'Italia e del mondo. Tra gli altri ci sarà anche un nostro concittadino, Ottavio Belli, che proporrà uno spettacolo in anteprima con uno scorpione realizzato in Cina, tra l'altro anche pericoloso. Sì, abbiamo deciso di organizzare quest'anno, proprio dopo la pandemia, un evento nell'evento. Quindi il 6 agosto all'Anfiteatro La Civitella realizziamo lo spettacolo Illusion, portiamo in scena questo spettacolo, che comprende artisti di fama internazionale, direttamente da Broadway, Aaron Crow, oppure i Disguido, Raffaello Corti, Samuel, il più grande ventilogo del mondo, ha detto di tutti, ci sarà da ridere e in una serata all'insegna dell'illusionismo. Il nostro concittadino, Ottavio Belli, porterà il suo numero mai visto in Italia. In anteprima si chiama Red Scorpion, è un numero di escapologia da questo scorpione gigantesco, che è grande, 4 metri, metallico, un numero di suspense e di pericolo e di adrenalina pura. Vi aspettiamo tutti all'Anfiteatro La Civitella, i prezzi dell'evento sono popolarissimi, si parte dai 10 euro fino ai 20 euro, i bambini fino a 12 anni avranno la riduzione del 50%, i biglietti li trovate su Ciao Ticket e tutte le tabaccherie online. All'interno della manifestazione ci sarà spazio anche per il sociale, perché parte del ricavato dei biglietti della lotteria sarà devoluto proprio alle associazioni in beneficenza. Sì, quest'anno parte del ricavato della lotteria collegata all'evento, sarà devoluta in beneficenza a due associazioni con cui ci onoriamo di collaborare, l'associazione ABCDEF che si occupa di bambini affetti da diabete e l'associazione Inclusiamo che invece si occupa di sensibilizzare e supportare le famiglie con bambini con disabilità di varia natura e malattie rare. Tutti i biglietti sono acquistabili presso vari punti di vendita, negozi, attività commerciali di Chieti e Chieti Scalo che espongono la locandina al prezzo di 2,50 euro, un piccolo gesto per un grande contributo. I premi in palio? I premi in palio sono una moto, un monopattino, un buono presso Sarni Oro, due buoni per revisione auto, insomma tanti bei premi e devo dire che tutti gli anni che abbiamo estratto i biglietti e i premi i vincitori sono stati molto molto contenti.